Ciao, sono Davide Granelli, ho 24 anni, nato il 23 dicembre a Fidenza, ma da sempre salsese, abitante e innamorato di questa cittadina. Mi sono laureato in economia aziendale, ma il mio lavoro non ha mai, diciamo, toccato questo ambito di studio, bensì forse totalmente il contrario, quindi anziché trovarmi su una scrivania mi sono trovato nel mondo notturno. Sono orgoglioso di aver creato nel corso degli anni, appunto di aver trasformato quello che era un gioco in una cosa vera, seria e aver creato due organizzazioni che sono New Era e Over, sono le mie due suddivisioni e soprattutto di aver creato un ambiente di divertimento sicuro dove la gente sta bene, si sente bene e riesce ad esprimersi, a svagarsi il meglio possibile, possiamo dire. Diciamo che il posto dove ho più lasciato il cuore è Viale Romagnosi, dove abbiamo avuto un'esperienza magnifica al Gran Caffè del Teatro e non solo, ma anche eventi organizzati appunto nella via insieme al comune che sono stati veramente magnifici. Non ho deciso di vivere qui, ma sono semplicemente nato. Detto ciò, l'amore per questo paese ha sempre fortificato il mio senso di appartenenza, soprattutto dei miei eventi e soprattutto la soddisfazione doppia nell'organizzare qualcosa qui rispetto a qualunque altro tipo di luogo che ci sia.